Salve gente, sono Cecchino98 e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Half-Life 2 Ok, l'ultima volta, dopo aver fatto un po' di casino per la città, siamo passati attraverso questo condotto che ci ha aperto Dog, che poi è sparito di nuovo E dobbiamo trovare un modo per andare da... ovunque dobbiamo andare Quindi... Devi fare il salvataggio qui Non ho idea di dove devo passare qui, forse Sembra così, Cristo mi fa venire le vertiglie in sto posto Mi farò male, no, non mi sono fatto male, molto bene Eh, Cristo Qua ci morirò tanto, lo so Eh, scivolo Eh, rocce che cadono, perfetto Ah, che ancorasti Dov'è, dov'è, dov'è Oh, dannato Giusto per aspettarmi in questi anfatti di trovare tanti gli headcub Oddio, non mi piace la cosa Aia Mi sono rotto una tibia E... a cosa ha servito questo? Non lo so Ah, sì, va proprio di qua Benissimo Sì, perfetto Quando faccio il week save mi va tipo in neuralità Tum, 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 il gioco Non mi piace la cosa Aspettate, sto ancora regolando un po' il volume E mi sono dimenticato di mettere i sottotitoli Ho l'impressione che ci saranno un po' di dialoghi Quindi Li mettiamo Niente, tanto non riesco mai a ricordarmene Solo due volte ci sono riuscito Ma va bene così Allora Qui vabbè, luci bianche Quindi cos'è sto posto? Uh, stiamo tipo intorno nella zona dove mettono le capsule Con... Tipo, boh Cristo Ma che hanno fatto qui? Hanno fatto un buco fino al centro della terra Ok Stavo che non sono ancora caduto Ecco, adesso me la sono buffata, eh Oddio Gordon fa il barato non cadere Oh Stavo cadendo Bene Da sta parte non si va da nessuna parte Ma questa parte non si va da nessuna parte Mamma mia quanto sono forte con l'italiano Uh Interessante Eh, lì c'è un tizio che non voglio Quanti colpi ho per questa? Non so se mi conviene spiegare di conto quello Non voglio farmi vedere però Ho l'impressione che se mi faccio vedere Accadrà qualcosa di brutto C'è questo, scusa Posso tipo No, non posso fare niente Eh Vuoi dirmi che devo entrare qui? Cos'è sta storia? Fatemi vedere Aspetta Fadatemi passare un altro, un secondo Vuoi dire se posso entrarci tipo con E? Sì Posso Yeee Siamo dentro a un coso che ci trasporta E il casino Dondola tutto Io vomito così, eh Non va bene Oddio Adesso muoio tipo Non posso fare niente Va bene Che mi succedeva adesso? Ah Va bene Dio mio Da qui non si va da nessuna parte? Posso non dice che devo salire su sti cosi? Sì, beh Grazie cosa? Ah Sotto visto un posto dove si può andare Da sotto si può andare C'è un muro che scende? Tipo Hmm Ah cristo C'è tipo un muro per cambiare la direzione di sti cosi? Ah Su questo qui devo andare Aspetta Sì adesso ho capito Devo andare su Questo Ui Almeno credo Dovrebbe portarsi dall'altra parte In teoria Sì Forse non moriremo questa volta E c'è il tizio che lì ci vede sicuramente Sì ecco ci hanno visto Eh Ciao O no Non lo so Eh Cristo Il Lo sballottaggio E qui andiamo in un punto con luce bianca Gli occhi Caricamento Bene Dove andremo a finire? Andiamo tipo in culonia qua Non lo so Oddio No Da altri posti a caso Boh So solo che la cosa non mi piace Questi qua continuano a venirci addosso Ci sono dei tubi trasparenti Ci fanno passare tipo dentro la birra che so Mi ricorda tanto la sezione All'inizio di Half-Life 1 In cui su quel teleno Cosa sono quelli? Cos'è quel coso? Cosa? No Cosa sono quei robbi con le gambe in quel moro? Non sono dei Votigount Cacchio sono Vabbè Mi ricordo la sezione con il cannello All'inizio di Half-Life 1 In cui ti porta dentro il laboratorio E poi comincia tutto il putiferio Staviamo con il nostro zoom Eh Cosa sono quei cosi? Non lo so Stanno che con mai non mi avrebbero visto Sono tipo occultato qua dentro Boh Comunque Sì Questa sarà una gita lunga E' molto divertente Oddio gli strider E' da qui che arriva tutto praticamente Oddio Ciao strider Voi non mi avete visto Tranquilli Ste capsule ci sono poi Boh Dove andiamo adesso? Combined up è tutto Perfetto Niente di meglio Stiamo tipo Facendogli infiltrati adesso E' lì? Saldare una porta Perfetto Che sono quei rovidi? Fanno impressione Ah Queste sono le gunship Che bello C'è tutto qua Un terreno Stupidi combine Hanno industrializzato tutto Oddio No terreno Tu sei capito Bene Quindi Siamo arrivati Forse sì Anzi probabilmente no Ci saranno ancora tipo Cioè Mi sa che cinque minuti Li abbiamo passati solo su sta cosa Capolinea Sì Oh Cristo Uh Allentamento E caricamento Vai Perfetto Ho l'impressione che accadrà qualcosa di brutto O come questo varo presentimento Saldiamo Sì Perfetto Mi confiscano adesso Sì che bello Oddio No il piede di poco no Il piede di poco no 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 Non potete farmi questo Tutto ma non il piede di poco Siamo sei Oddio Che diavolo è Ah perfetto Aha 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 Sì Certo Complimenti Cioè praticamente la gravity gun Oddio È cambiata la gravity gun Cosa Cos'è Oddio ci ammassamo la gente con il destra Aspettate E la buttiamo Cioè praticamente me l'hanno potenziata Oh ciao stronzo Stronzo Muoi Ti spascio tutto Ma posso distruggere veramente tutto con questa È stupendo Vieni qui pezzo di coso Vai via Vandalizziamo tutto Sì Sì Boom Boom Basta Che Che è Vieni qui Stronzo Non ho più neanche bisogno delle armi per finire il gioco adesso Beh più o meno Probabilmente uno stride Mi ucciderebbe lo stesso ma Sì ma sfasciamo tutto Siamo overpowered adesso Vieni con me Un cadavere Sei bellissimo lo sai Ok basta Basta Vai via Dannati C'è Gli ho massacrati tutti Non ci voglio credere Vai via tu Da qui non li posso prendere Ok mi servono dei cadavri Da lanciare Dai venite qui Venite qui Dai Dannati Muori Oh Non posso tipo accogliere le armi dei combine Oh Non posso accogliere le armi dei combine Che è sta Ah no queste non sono armi dei combine No No Sì No 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 Dannazione E però così finisco tutta la vita Arma energia di punto zero Che è Dai venite avanti Su Vieni qui Molti tutti La potenza proprio Però mi serve vita Sì tizio Sì 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 ho capito Però mi hanno mandato a far fuori Alieni a caso Questo lo dici tu tizio Muoi Anche tu Via Va bene Si farà questa parte Credo di sì Yes È più potente stamora solo che tutto Vabbè Tutto il resto dei armi del gioco Qui Oddio Muoi Muoi Oddio la mia vita Cos'è questa Comun come l'ho fatta prenderla Aspettate Dove si va Di qua È esplosa Benissimo Uh Oddio Mi ricarica tutto sta roba Cristo 100 200 Wow Adesso siamo proprio indistruttibili Posso tipo Aspetta No C'è tipo un muro per distruggere Sto campo di forza Sì tu continua a sparare Tizio tranquillo No merda Merda Ai Vabbè andiamo a ricaricarci Perfetto Aia Ah la lì l'ho presa Ecco Gli ho disintecati tutti Oddio La crudeltà proprio Sto facendo un genocidio di combine Sacristo di Garantican Overpowered È Troppo dannatamente OP Ma noi la cosa Cioè guardate i corpi Corpi di combine ovunque Refugliamoci E Andiamo avanti Ho l'impressione che ne arrivano molti altri E qui Sì Vandalizziamo tutto Perché no Alla fine è questo che serve Questa Quest'arma no Ah qui altra vita Caricamento Come al solito Ci sta Oddio Dai venite qua dietro Dai Dai Tu Eh no Cioè tipo Li prendo qua È tipo la Come si chiama quella mossa Qualcosa con cui I Jedi usano la La forza E tipo ti prendono Ti soffocano Vabbè Soffocamento Insomma Sì La lunga maggiore del dispiacere Che provoca la sua sfortunata carriera Ma forse non l'aveva scelta Chissà quali iconoclastici Se li ha lo spasso Quando lei era giovane E influenzate Ma nonostante la loro responsabilità Per i decenni disordini Era il suo Ad aver scelto di agire Contro il futuro Dell'interumanità Sì No Io la salvevo l'umanità Tu non hai capito niente Devo fermarmi Tanto a sentire Quello che dice Perché sennò Qui delle storie Non ci capiamo niente E roba così Quindi Dov'era la vita di prima Qui non penso Oh Cristo Vieni qui Dai qualcun altro La tristezza della morte Di quello mino Oh lame della morte Che volete fare Mi fanno male però Guardate come posso usare Tipo Non è troppo bello Cosa Cristo Morite È un brutto È una brutta zona questa Via 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 Va bene che sono tipo Indistruttibile adesso Però Eh no Me la tolgono velocemente La tuta Cavolo Ho aumentato la Sensibilità del mouse Perfaglio Dunque ce la fanno Sempre a colpire Mestizzi qua Morto Com'è che non le uccido Scusa Dove Stronzi Morite Poi si vede che è diventato Proprio inestabile Perché anche Gordon Non riesce a tenere la ferma In mano No vedete Traballa Ah suppongo Dove togliere qualcosa Lì tipo Si ecco Ah no Questi qui posso usare È vero Aspettate No così No troppo Vai Vaffa Ma Cristo Basta Ho perso un po' Troppa di tuta Per i miei gusti Qui Ah devo disattivare Aspettate Non posso tipo Donare in Itakurami Ma Per niente proprio Aspettate Ho un'idea Facciamo così Yeah Perfetto Ma Colpisci di su Basta Dio mio Morite Mi carico Questo però Se ne perde di vita Così Muoi Basta Questa Questa è tipo La gravity gun Versione Pay to win Scusa ma questi Tipo No No Adesso Muovite tutti voi Dio Buono Basta Che devo fare Per andare avanti Arrivano all'infinito Questi Basta Forse non mi faccio niente Ma che fate Ok Devo distruggere questo Bene Forse si Forse no Suo Basta Uccidi Sono difficili da usare Ste Ste palline Ah non devo andare qui Aspettate Ecco Perfetto E saliamo Saliamo tantissimo Salvo Diavolo Muoi Rekt Pagopio Dove Stanutire Cavolo Eh Ok Non devo più Stanutire Spero che mi stai Vivendo queste Dove Su Lo butto Sull'altro All'altro Caso O qui Perfetto Distrutti Ottimo Lì Luce bianca Eh Cavolo Però Qui Non posso Recuperare La vita No Qui Ci servono Queste Uccidilo Uccidilo Ti prego Ah Che palle Ah Spero dove Dove Poco Sta cosa No Da dove Da dove Come ho fatto A non ammazzare Basta Di prendermi Que Muori No Troppo Poca vita Quanto ancora Devo salire Su Da dove Arrivano Ah Ecco Qui Forse Dove 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 Oh Di qua Presto A cosa ti serve Che hai la roba Quando hai una gravity gun Come questa Che discorso è Segnamente Ma Ah Va bene Ah Ciao Oddio Non mi piace Dove Dove Mi sparano Aspettate Oddio Dead Ma Muoi Oh Muochi Perfetto Dove Ma Basta Quanti Arrivano Chita Io Provo da questa parte Perché sono potente Ho posto le basi Per la sopravvivenza Dell'umanità In una Prostitiva Più Massa Quanto Possiamo Maginare Sì 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 Tizio Ho capito Non me ne frega Niente Su Quindi Suppongo di Dove Andare Quaggiù Oh Cristo Non mi piace Dobbiamo Dobbiamo fare Matrix Slalom Fare Proiettili O no Possiamo usare Queste Boom Morite Tutti Il casino Oh no Spera Questo è un bel problema Questo come L'ammazzo Scusa Aia Fa troppo male Cristo Devo muovermi All'attraversare Aia Tanca di tutto Gordon Tanca di tutto Questa No No Cos'è sta Storia Ferma un attimo E vabbè Ho già finito La corsa No Devo stare Riparato Devo stare Riparato Corri Gordon Si sparare Ok Adesso Corri 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 Che cacchio è Non mi fanno Come faccio Sono troppi danni Che mi devo Tancare Non si fa sta roba Se poi Non corri Va bene Aspettate Provo a fare così Magari posso evitare I danni Forse Non mi sparano Ah Cristo Riparami Non mi Ah mi fa male Ma la vita che ho perso No Levati Capsula Schifosa Cos'è sto danno Come lo faccio Non mi sparate Non ci pensate Nemmeno Sto cacchio Di controllo Della corsa Delle cose Fosse un po' più Sistemato Vabbè Sta a fare qui Guarda Che mi fa Non mi Riparami Vai indietro State indietro Stronzi Muori Levatevi Dio buono Cioè È tutto che Sta fa me Non lo prende Lo stesso Oh Vai Muori Cristo Santo Se sto lì Non riesco a colpirlo Se sto sotto Non Vabbè Sentite Continuo la prossima volta A vedere un po' come fare Ma Cioè Non so come farlo Cioè Non ci riesce Va bene Spero che il video Vi sia piaciuto Terzo Rage quit Del gioco Tipo Noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti